Roseto degli Abruzzi, sempre più smart city. Dopo i monopattini a disposizione di cittadini e turisti, in città arrivano le biciclette elettriche. Il funzionamento è del tutto simile agli altri mezzi di bike sharing, ma con l'unica differenza dell'obbligo di fine corsa in uno dei terminal segnati in verde sull'app Bike Boom. L'azienda di Silvia, giudicataria del bando, metterà a disposizione 50 monopattini e 20 bici. La grandissima novità delle bici, tra l'altro siamo molto contenti di portarle qui a Roseto, che sarà la prima città in Abruzzo a poter sperimentare questo servizio con le biciclette e con l'app. Ovviamente ci sarà anche una società pescara che le porterà, sappiamo già nei prossimi mesi, però comunque Roseto con Bike Boom è la prima in assoluto in Abruzzo. Quindi per noi è un motivo di grande orgoglio e ci fa davvero tanto piacere poter lavorare a Roseto sia con i monopattini che con la novità delle bici. A differenza della scorsa stagione estiva sono stati incrementati i punti noleggio con l'offerta estesa anche alle frazioni, le prime a dotarsene Colonia Spiaggia e Monte Pagano. Roseto che ha una viabilità particolare, soprattutto nei mesi estivi, abbiamo voluto fare questo progetto proprio per cercare di decongestionare un po' quello che è il traffico durante i mesi estivi. Quindi per il momento abbiamo inserito Colonia Spiaggia e Monte Pagano sperando nei prossimi anni di poter ancora di più allargare il servizio. Grazie. 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 Grazie.